Andiamo! Vai che fa! E guarda la strada! Giunga il passo di davanti! Stiamo andando in paese a Micronos a fare colazione. Loro sono gli amati. Siamo. Anche io. Hanno! Siamo! Andiamo! Andiamo! Grazie a tutti. Oh, c'è l'incidente. Ah, sto arrivando l'incrocio, più bello di Mykonos. Stamattina dormono tutti per tutta la faccia di farlo, ma di sera è una cosa incredibile. È l'incrocio delle editazioni, se ti fermi sei morto. Devi decidere di andare e stop. Eccolo qua, e noi andiamo. Questo si ferma. Probabilmente ci prendiamo qua, al perfetto coffee food da fare colazione. Questo è il motorino davanti e quello che piace al Mario, che vorrebbe comprare. Grazie. 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 Grazie.